Signor Cobelli, come si sente alla notizia di non essere ammesso agli orali? È proprio un duro colpo. Il compito non è andato bene. Ci sono molti errori di ortografia, un già senza l'accento che per una volta può essere una svista. Ma come vede, questo errore è stato ripetuto. E andiamo oltre. Qui ci sono gli errori più gravi, vede. E per queste poche persone do tutto me stesso, scrivendo do di apostrofo o. Eh, lo so. Eccezioni con due z. Signor Cobelli, lei ha consegnato il tema molto prima della scadenza del tempo. Avrebbe avuto tutto il tempo per evitare questi errori. Lei avrebbe potuto fare molto meglio di quanto ha fatto. Lo penso anch'io. È inciampato. Ma ho visto che lei si è impegnato. E può capitare che gli esami vadano male. Non è detto che vadano sempre male. Vorrei che questo incidente di percorso le insegnasse. Tutte le volte che lei affronta una prova, deve pensare. Devo andare fino in fondo. Non lo dimentichi mai. Te ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. Buona giornata. Arrivederci. Del non andare fino in fondo mi è successo parecchie volte. E penso che dopo questa chiacchierata ci penserò due volte. Mi ha fatto pensare soprattutto a ciò che potrei essere. È un momento di prendere。 Grazie. Arrivederci. Grazie a tutti